Il mese dell'Inter contro la squadra saudita del Al-Nassar Gareb. Sulla posizione di Teyes, servito sulla corsa, palla all'interno, il colpo di testa, la parata di Stankovic e poi spazza via. Pericolosa questa azione, colpo di testa, quasi a colpo sicuro di Talisca. Bello questo pallone dentro e c'è il gol del vantaggio di Gareb con questa gran palla dentro. L'assist di Talisca e va in vantaggio la Nasser. Celanoglu in pressione, l'anticipo secco di De Vrij, poi la palla buona per Celanoglu, qua deve uscire qualcosa. La palla per Lautaro, entra in aria, il tiro e la palla sfiora il legno. Ronaldo, Gersens, si va a riprendere la palla, Lautaro. Bello, il pallone dentro per il Tuku, che sciupa una clamorosa opportunità. Pallone recuperato bene da Gersens, subito palla dentro per Frattesi. Sterza, si ferma, c'è il corridoio, la palla diventa un assist per Correa, che salta un uomo. Palla buona, Lautaro! Correa, rimpallo, Doffris ci riprova, il tiro e la parata ancora. Tripla occasione per Correa, Lautaro, rivediamo. Bello il tocco di Lautaro per Doffris, può andare al cross, traiettoria, rimorchio. Il colpo di testa! E c'è il gol dell'1-1 di Frattesi. Bellissima questa azione, bello il cross e bella la girata di testa di Frattesi. Il cross di Doffris, la girata di testa nell'angolo di Frattesi, che fa il suo primo gol, anche se inamichevole, in maglia nero-azzurra. Attenzione, però qua c'è una palla buona per Lautaro, che entra in area e il suo tiro in due circostanze. Il primo trova la rispinta del portiere. Attenzione, questo bel anticipo di Aslani, che va al tiro. Ancora recuperiamo alti, ancora Lautaro, attenzione. Prova ad andare da solo in Slalom, Sensi, la mette per Frattesi. La piazza! Aslani ha cercato il colpo di piatto nell'angolo. Palla che è uscita di un baffo. Traiettoria dolce, Lautaro! Di testa, si dispera, perché era una grande occasione da gol questa. Palla che termina alta, ma rivediamo carezza all'interno. Lui di testa la gira. Quadrado, controlla. C'è il raddoppio su di lui. Palla dentro per Frattesi, potrebbe andare al tiro. Non ci va. Poi arriva il tiro di Sensi. E la palla sfiora al palo. Turam, ancora palla a Frattesi. Gli rimane un po' in mezzo. Quadrado, chiama il cross. Lautaro, il colpo di testa. Turam, Lautaro! Incredibile! Reclamano per un fallo di mano, ma un'altra occasione incredibile per Lautaro. Calciaforte di prima intenzione. E mette il pallone altissimo, occasionissima. Finisce 1-1 con i giocatori sfiniti dal caldo, come vedete dai volti dei primi piani del regista giapponese. Un'Inter che ha fatto un buon test, ha creato tante occasioni da gol, non le ha capitalizzate. Appuntamento a Tokyo, da Tokyo, per Inter-Paris Saint-Germain. Grazie a tutti. Grazie.